Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nell'angolo di Claudio Quest'oggi diverse cose da fare e novità che ho fatto off camera Innanzitutto ho sistemato un attimino il discorso shaders e anche bitrate di registrazione Grazie a Bongi e il buon Ramon ho trovato un po' la quadra Sono ritornato a Optifine perché mi mancava il discorso dello zoom e non riuscivo a implementarlo con Iris e Sodium E ho notato che gli fps non sono malvaggi stanno sui 60 Tanto io non registro oltre i 60 fps e va più che bene Shaders la complementary suggerita da Ramon Io l'avevo usata tempo fa però mi dava un problema con la luce Però ora mi sembra abbastanza buona Allora modifiche vi faccio un piccolo recappino Ho sistemato la casa come potete vedere ora dispone di due piani E qui sotto ho fatto un open space Ramon mi prende per il culo per questo però vabbè Qua ho sistemato così e qua c'è lo stone cutter La crafting l'ho alzata e sto iniziando a farmare un pochettino di pelle Questa l'ho fregata ai villager e due pezzettini facendo accoppiare le mucche Mucche che ho sistemato di qua questa è inattiva per ora però vabbè Qua ho spianato e ho rubato due mucche ai villager da quel recinto centrale E niente le ho messi qua con il tappetino che come dicevo al buon Ramon mi serve per entrare e uscire Senza doverlo soffrire del cancelletto E qua ho fatto una piccola coltivazione di grano perché così li faccio accoppiare e materialmente poi poso il grano Tanto con la modifica dei tick portandoli a 30 non ci stai veramente niente a farmarti un pochettino di grano Lo so è un pochettino OP come cosa però ragazzi le risorse servono Anzi dovrei sistemarmi anche il discorso canne da zucchero che ora poi le recuperiamo Allora sti semini li ripostiamo qua e anche il grano Perfetto casomai le canne da zucchero le possiamo mettere qua L'avevo vista lì Ah poi ho aperto qua perché materialmente la barca da là poi si uscivo ma restavo bloccato Ora la recuperiamo al volo per andare a prenderci quelle canne da zucchero Tanto sono più che sufficienti come vedete vabbè sistemerò meglio perché lo devo fare un pelo più profondo Ecco qua c'è l'effetto mamma sto affogando Non so perché mi fa questo scalone però vabbè è l'acqua che è insufficiente ma non ci fate caso Allora recuperiamo qua le canne da zucchero Mi piacerebbe trovare questo benedetto spuntone che è in una grotta particolare Che poi su Minecraft o ne trovi in quantità o come nel mio caso non ne trovi manco una Però vabbè la troveremo quindi la farm è sospesa momentaneamente Qua mi dai di nuovo quel problema? No Ah sì perfetto Vabbè dobbiamo fixare però in qualche modo perché qua non può essere Ora ci aggiungo un pochettino d'acqua col secchio E vediamo di fixare il problema Livellate sempre la vostra acqua Perché ne vale della vostra salute Ok dopo questa cagata penso che mi disiscrivo io stesso al canale Così risolviamo ogni tipo di problema Va bene ci siamo divertiti a fare gli acquaioli E quindi canne da zucchero Andiamo a sistemarle al volo Tanto praticamente le puoi mettere sulla costa e ciaone Ok con i tic accelerati ora le vedremo crescere abbastanza rapidamente Qua andiamo a levare il tutto Vabbè il fiorellino no lo lasciamo Questo lo buttiamo Ok e queste sono qua le mucche Volendo una la possiamo sacrificare al dio di minecraft I piccoli Innanzitutto gli do una sfugonata che si ricordano chi comanda Ok Ecco per i drop è un pochettino scomodo il tappetino Come vedete devo entrare però vabbè Allora vi faccio vedere anche le modifiche che ho fatto al portale del nether E poi notavo poco fa che ho visto un po' il villaggio Che praticamente siamo rimasti con tre villager Che anzi a tal proposito Vediamo se li vedo dormire E li blocco dentro Usiamo la tecnica classica Gli mettiamo un pezzettino Ecco questo per esempio è senza lavoro Però ci potrebbe servire Per far accoppiare I villager Visto che ne abbiamo veramente pochi Questa è vuota Vediamo qua sopra Perché praticamente ho visto che il contadino non c'è più Quindi Quella coltivazione Perché mi serve per fare gli scambi Ok c'è lui Questo lo chiudiamo pure Ok così va più che bene Potrei mettere anche Una Fence O comunque anche un tappetino E loro non riescono ad uscire Però A sto giro andrei di pietra Qua c'è una pecorella nera Mettiamo pure un paio di torcine Io ho messo questi blocchi molto carini Così L'illuminazione fai da te Vabbè Qua c'è un amico Mio è di Un po' di tutti Ok Perfetto L'abbiamo scomposto In molecole E' bellissima la mod Che usa Ramon Che praticamente Mette La fisica Nelle morti E qua io ci resto secco Se non mi Levo Vabbè andiamo a dormire E vi faccio vedere il portale Andiamoci così Perché Se no qua Ci resto veramente secco E mi rompono le scatole In 12.000 Quindi ci vediamo davanti al portale Ok Un nuovo giorno Una nuova vita Qua i nostri amichetti Bruciano Come giusto che sia E andiamo al portale Per farvi vedere Comunque che ho sistemato Non sono rientrato nel nether Perché E' un cicinnino pericoloso E a questo punto Visto che Comunque Cioè i libri Li possiamo farmare Per l'amor del cielo Perché comunque La carta E la pelle Pian pianino La facciamo Io avevo L'obiettivo di farmi Comunque Una Una bookshelf Una libreria E dopodichè Il leggio Perché volevo Praticamente Un villager Che mi scambiasse Mending Ecco qua Ho sistemato così Qua vabbè Ho lasciato pure Uno stonecutter E la crafting Perché ho messo Questi blocchi Di stonebricks Perché qua Era tutto rotto Avevo messo la terra Provisoriamente E qua ho chiuso Con quel buco Nulla di particolare Poi di qua Ho visto un attimino Il tutto E niente C'è praticamente Oceano Perdita d'occhio Una figata Che ora posso Zoomare E dovremmo Esplorare Qua c'è pure Un'insenatura Che magari Ora andiamo A verificare Perché male Non ne fa E abbiamo Anche diversi Animali Qua vicino Praticamente A nostra disposizione Le pecore Per ora Le lascio stare E qui Una cosa Che farà Triggerare Il buon Ramon Zuc Cioè Io Come vedi Le trovo qua Dopo il villaggio A perdita D'occhio Anzi Me ne prendo Un paio Che caso Mai a questo punto Rigenero Un Iron Golem Anzi Le spostiamo Tutte Che tanto Qua Non hanno Veramente Senso Ok Così Ce le portiamo Qua comunque C'è il portale E niente Potremmo esplorare Tanto C'ho il lettino Con me Vero che c'ho Pure l'inventario Un po' pieno Però vabbè Volevo vedere Questa grotta Qui sotto E a questo giro Mucca Sai che c'è Crepaci Così mi dai La tua Sacra pelle E lasciamo stare Un attimino Le mie A riposo Allora Vediamo Sta grotticella Se me la riesco A esplorare Perché comunque Il carbone Per ora Mi serve Come il pane E forse qua Troviamo pure Lo spuntone Così non metterò Qui il carbone Dai Fammi contento Gioco Allora Di qua posso scendere Assolutamente Sì Quindi Torcia Spada Eh Qua già carbone Vedi Che bravo Mio cugino Minecraft È sempre Bravissimo Allora Carbone recuperato Qua abbiamo Degli inutili Rame È già Caverna finita Signori Penso proprio Di sì Sì Eh grazie Così risalgo Meglio Perfetto Di qua Proseguiva Eh sì Di qua Prosegue Però C'è sempre Sott'acqua Questo è che Dico io Questi maledetti Spuntoni Vi metto la Fotografia Qua gigante In genere C'è la grotticina Neanche troppo In basso Troviamo Questi maledetti Ma Eh Vabbè Allora Esploriamo Da questo lato A questo punto Così Insomma Vediamo di Capire meglio Il tutto Avevo Intravisto Pure Forse Un lato Con la giungla Allora Il villaggio Comunque È di là Abbiamo come riferimento Il portale Però comunque Mi sono segnato Anche le coordinate Perché comunque Ho visto che Aspetta La mucchina La mucchina La mucca fa Mumu Ma in questo caso Fa Bubu Ok Io Mi disiscrivo Sempre da me stesso Perfetto Eh Ah Qua c'è un altro Avamposto dei pillager Eh Che fatene privi Li andiamo a trovare Però magari Mangiarci qualcosina Sempre un'idea Ok Eh La torcia Non mi serve Dammi Questo Ok E abbiamo anche Nell'eventualità Il lettino Ah Qua Un leggero strapiombo Però Vabbè dai Si passa Facile Pocahontas Perfetto È essenziale ragazzi Cioè quando vi lanciate Dovete urlare Pocahontas Perché Io lo chiamo Innanzitanto quando gioco Con il signor Dennis online Su Minecraft Il salto della fede Tipo Altair Ecco Allora Aspetta che Oggi è la festa Della mucca Ok Anche perché È una libreria Sono tre libri Che tutto sommato Già mi posso fare Soffrendo la strage Innocenti Ma Vabbè Allora Vediamo con Calma Qua I nostri amichetti Allora Allora Andiamoci da qua Mi faccio un ponte In pietra In pietra In terra E là sotto E là sotto Ci sarebbe da andare A guardare Che comunque Secondo me L'abbiamo Abbastanza vicino Allora Buongiorno Disturbo Non professo Nessuna Fede Quindi vengo in pace Prendetemi per pazzo Sì Pazzo per Gesù Sostanzialmente Che cavolo c'è Ah Generazione bellissima Non vedo una Mazza Se posso dirlo Oh Bello È un po' Abbandonato Ecco Ma giusto un po' Hanno avuto qualche problema Forse con gli Enderman Cioè Vabbè Manco li vedo Quindi Molto positiva Come cosa Allora Un altro cornino Che andiamo a sentirci subito Ecco È questo Quello che mi dicevo Eh Qua ci sono gli amici Gli amici Arrivano sempre Nel momento del bisogno E non vi incazzate Vi ciullo quattro cose Me ne vado Allora Carotine E il legno Però bastardi Io vi sto fregando le cose Lasciatemi operare In pace Ma che chiamate La pula Ma questa è un'aggressione Non autorizzata Disgraziati Disgraziati E maledetti Non solo io vi Vi frego con tanto amore Le cose Ecco Vabbè Tanto Il punto lo sappiamo Dove andarli a trovare E con la scusa Ci svuotiamo un po' Perché Sono veramente Euforico Nell'inventario Ok E mettiamo pure A cucinare Un pochettino Di carne Perché comunque L'abbiamo Veramente Esaurita E a questo punto Vediamo le canne da zucchero Già che stiamo Così facciamo Almeno la libreria E poi lo scopo sarebbe Allora Fammi la carta Tac Tac Un giorno capirò Come farlo al volo Però Vabbè Non oggi Tac Tac Anzi no Era al contrario Forse Un momento di perplessità Sì Ok Che poi vedi Io c'ho qualcosa Però Vabbè Allora Fammene Altri due Perfetto La legna L'abbiamo Vabbè Libreria Era cosita Tac E tac Perfetto E invece Il leggio Se non erro Mi serve Lo slab Sì Allora Facciamoci I slabettini E vedrete Tac Ok Questo lo piazziamo Momentamente qua Perché Tanto Dobbiamo fare Accoppiare i villager O comunque Fare cambiare il lavoro All'altro Capendo qual è il suo blocco Che credo di aver tolto Oltretutto Allora Dormiamo St'ingresso Forse è un po' scomodo Me ne rendo conto Però È carina L'idea che io salgo E poi mi vado A coricare Cioè È molto carina Volevo tornare anche A dei tizi Ma Tutto sommato Non è che c'era Chissà che cosa Poi Una volta che io Ho fregato questo È poesia Questo è il cornino Che preferisco Lo so che il suono È ridicolo Però Ragazzi Io la prima volta L'ho trovato Mi sono morto Alle risate Allora Le zucche Facciamoci Dei semini Perfetto E ce le piantiamo Nell'orticello Allora Leviamo Un paio di carotine Tanto Poco importa Ok Facciamo così Abbiamo due zucchette Ne mettiamo un'altra qua Dai Mi piace Come idea Allora Questo lo buttiamo Alla faccia di Ramon Poverino Quante gliene dico Allora I libriciattoli L'abbiamo fatti La libreria L'abbiamo fatta Volevo fare perdere il lavoro A quello E penso che Abbia preso il lavoro A questo punto Da qualche calderone Che era In prossimità Dell'altra costruzione Quindi Li andiamo a togliere E vediamo Se perde Il lavoro Così con la scusa Questi meliciullo Che poi Andiamo a aumentare La farm di lava Che Non guasta Leviamo anche questo Questo blocco È pure carino Però Ho esaurito Lo spazio Ovviamente No Il ferro Non lo buttare Ok Questa dovrebbe essere Smoothstone Sì Perfetto Vabbè Sta cestina Sti cavoli Allora L'avevamo MENZ Ho chiuso Qua c'è un amico Di Ramon Che noi facciamo Finta di non conoscere Lui Gli dà i caldi Abbracci Ogni tanto Ha qualche problema Con gli enderman Ha creato Una farm Una farm Praticamente Di enderman Allora Vediamo se il tizio Ha perso il lavoro No Lo vedo ancora Laborioso Perché L'altro verde Che ho bloccato Non lavora Quindi È dedito proprio Ah la giungla Era di là Perfetto E quindi Da che cavolo Ha preso il lavoro Questo Vero che Magari ci vuole Per un po' Perché i calderoni Li ho tolti tutti Fornaci Non ce n'è In giro Quindi Vabbè Allora Fatto questo Abbiamo fatto La libreria Il leggio I nostri amichetti Ci hanno gentilmente Ucciso Però Vabbè Io volevo Esplorare di nuovo Di là Per il discorso Dei Famosi Spuntoni Che però A questo giro Magari E ci rinunciamo Perché Insomma Allora Questo materiale Didattico Lo mettiamo Qua La pelle La salviamo Pure qua Le zucchette Le mettiamo Qui Ogni riferimento È puramente Casuale La carta Vabbè Sì Mettila qua Insieme alla pelle Anzi No Facciamo così Così le abbiamo Insieme Ok Lo smeraldino Lo mettiamo Qua Che è quello Che ho trovato Da I villager La mia carne Si è cotta Cucinami anche Il coso Potrei farmi Un iron golem A questo punto Anche se di ferro Diciamo che Un blocco Lasciamo perdere Che è assolutamente Meglio Ok Niente Andiamo A rivisitare Quei disgraziati Questi li Possiamo qua La sabbia Che avevo Recuperato Pure E i slab Di legno Direi che Ce li abbiamo Pure D'alimentario Come anche La barca Ok Cibo Ce l'ho Volendo Con i diamanti Potrei fare Pure una spada Però Insomma Allora Torniamo Dai villager Faccio Anzi Dai pillager Faccio un taglio Perché Se no St'episodio Dura 8 anni Quindi Ci rivediamo Là Beati voi Che avete i tagli Allora Rieccoci qua Stavolta saliamo Da questo lato Tanto avevo fatto Il ponte Di là Dovrei Decidermi Pure a rimettere Il salto automatico Ma forse È meglio Gestirlo Manualmente Direi che È molto Conveniente Come cosa Allora Mettiamoci Lo scudino Dobbiamo tenere Pure d'occhio L'armatura Perché Qua Volendo Ci potrebbe Essere anche Un villaggetto Che gioca A nostro favore Dove magari Troviamo un Mending Qualcosa Di interessante Allora Qua risaliamo Vero che Nella chest Non avevano Un granché Allora La guardo Da qua Mi volevo fregare Il dark Cock Anzi Dark Hawk Cock Lasciamolo Da una parte Allora Le freccine Vabbè Dai Ce le prendiamo Pure E le cordicelle Pure Giusto Perché sono Strons Ok Allora Fatemene andare Da qua Questi avevano Prigionieri Cose No Sta generazione È venuta Un po' A cazzo Di cane Eh però Avete rotti I maroni Eh Vabbè Vabbè Me ne sto Andando Non vi Tedio Ulteriormente Grazie Arrivederci Allora Là c'è Un po' Di materiale Didattico Ma ragazzi Io direi Che per questo episodio Può essere Tutto Mi dispiace Non aver Villager Da poter Sottoporre Le nostre Attenzioni Qua Perdita D'acqua Incredibile Ah Là c'è un altro Villaggetto C'è un altro Villaggetto Questi mi stanno Inseguendo Allora Facciamo Una discesa Acrobatica Dai dai Ci vediamo Il villaggetto Dai Che culo C'è trovare I villaggi Di gente morta Vabbè Meno male Mi sono conservato Le coordinate Sì Qua praticamente È tutto Abbandonato Quindi spero Che Quello Non lo sia Ma In realtà Sì Cioè È preciso Qua sì Infatti ci sono Le pecore Abbandonate Al loro Destino Sì Sì È tutto Abbandonato E però Che fatene Privi Assolutamente No Io sono Per L'aiuto Delle Pecorine Smarrite Che detta così È un po' Brutta Ma Vabbè Setacciamoci Di qua Incredibile Cercavo un altro Villaggio Lo trovo Abbandonato E però 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 Eh Queste Tornano a comodo Le risorse Che andiamo a guadagnare Il mettino No Ve lo lascio là Questi Ciullo E allora Butta questa E no Il calderone Gioia Dammo Ok Bannerini Arancioni Ci possono piacere Massi Fiorellino Via Via Le cordicelle Via Mediapresi Banner Sì A questo punto Li eliminerei Anche da qua E forse conviene Pure che poi Piazzo il letto C'è L'unico Villaggio Abbandonato Cioè Perché in genere Quando c'è L'avamposto Dei pillager C'è anche Il villaggio Di conseguenza Non è sempre Però Capita Che sia Nei paraggi Qua è tutto Abbandonato E levati Allora La campana Ma sì Prendiamoci Poi quanto qua Non serve una mazza E direi di mettere Pure il letto Perché sennò Tra poco Ci massacrano Ok Sto fiore Ha rotto Le palle Ok Ok Ciao Vabbè Questi Ce li prendiamo Sti cavoli Anche se Non mi piace Più di tanto Perché è un colore Un po' scuro Però li possiamo Pure ricolorare Niente Qua tutto Abbandonato Porcaccia La miseria Questo Ce lo recuperiamo Perché comunque Quando avremo più Villager Ci potrà essere utile Anziché farlo Allora Mucche Qua comunque Continua Sempre perché sono Della lega Alla tutela Delle mucche Allora Queste Via Almeno mi dai La carne E il La pelle Non me l'è data Sei veramente Una mucca Molto Molto Disobbediente Vabbè Il grano Lo lasciamo Là Mappe Vuote Dovessi fare Anch'io Qualcosa Con le Mappe Carta Ci può Servire Però Che caspita Lascio Lasciamo il grano A questo punto E gli sticchettini Me li prendo Questo è pure Interessante Vabbè dai Lascia le Mappe Vuote Si Lascia le Mappe Vuote Chi se ne Frega Tanto le Possiamo Fare La carta Bene o male Non è un Problema Niente E' finito Come episodio Di Deprediamo Il villaggio Abbandonato Però Signori Ma qua Praticamente C'è tutto Il necessario Cioè Ci stiamo Attrezzando Belle frecce Tanto L'arco Non l'abbiamo Quindi Capite bene Allora Quello L'avevo Visto Andiamo Da questa Parte E appunto Abbiamo fatto Sta Depredatona Poi Tornerò A casa In qualche Modo Forse Morendo Penso Lo so Mi odiate Però ragazzi E' un gioco C'è nel senso Non stiamo Lì Allora Questo è il doppione Una bussola Potrebbe Tornarmi Comoda Però Qua Sto Esaurendo Veramente Lo spazio Che cavolo Butto Facciamo Così E via Lasciamo Un attimo Sta carta Qua E la Lasciamo Qua Ragazzi Tanto Mi volevo Prendere Quest'altro Blocco Tanto Questo Si Cumula Perfetto Qua Abbiamo Angurie Ma io Già Ce le ho Qua Un altro Letto Vabbè Ad un certo Punto Chi se ne Frega E niente Fine del Villaggio Penso di Si Ed era Questo Quello Che avevo Visto Da Lontano Perché Poi Là Ci sono Le altre Case Quindi Si Nulla Ragazzi Io vi Ringrazio Per aver Visto Anche Questo Episodio Ora Torneremo A casa Fatemi Sapere Come Organizzarci Per il discorso Dei Villager Perché Li vorrei Fare Accoppiare Farmi Un Benedetto Librarian Per Questo Mending Io Ora Off camera Torno A casa E Sistemo Un attimino Tutte queste Cosine Abbiamo Trovato Perché Comunque Andranno Ad arredare Un po Meglio La Mini Casetta Che Ora Nell'eventualità Vedremo Di allargare Anche Insieme Al Prossimo Episodio Ciao Step 1 Wake up Early gonna rise With the sun Step 2 Get some good Some food in you Step 3 Think real hard About what you wanna be Step 4 F*** everybody Just do your thing Wake up Today's gonna be A good day Wake up Today's gonna be A good day Wake up Today's gonna be